Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Dai, si dia un po' da fare. Se qualcuno si dimostra reluttante ad esprimere il proprio talento letterario, qualcun altro è già pronto per mostrarlo. Signor Preside, le pongo le mie più sincere scuse. Siamo ragazzi e le nostre idee sono un po' confuse. Le chiedo perdono per questo comportamento. Da adesso in poi cercherò di fare un cambiamento. Sono stato un imbecille e gli orderei altre mille. Spero che queste scuse le accetti e io preverò a non spaccare più i letti. Spero di ritornarle amico perché così è tutto più figo. Le chiedo ancora scusa. Lei è pentito della cagula. Ci mancherebbe. Bene, va bene, può andare. Grazie signor Prezioso, grazie. Ho fatto la finta babbiosa perché sono le cagulo fin dalla nascita. Ci è cascato come sembra perché sono superiore a lui. Dago, mi raccomando, vado. Grazie, arrivederci. Cercherò di non rompere più i letti perché anche se ci dà un soffio si rompe. Però vabbè, ho un po' capito. Tutto bene fino adesso, ma manca l'opera di guida che è in preda ad una crisi di ansia. Sto cazzo. Grazie. 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 Grazie.